Sviluppare nei bambini e nei ragazzi una maggiore consapevolezza e il rispetto per l'ambiente che ci circonda per costruire una società più inclusiva e promuovere la cultura della sostenibilità. È l'obiettivo di La Mia Scuola è differente, il progetto di educazione ambientale nelle scuole ideato dal Comune di Andrea e patrocinato dalla Regione Puglia. Per arrivare a raggiungere un obiettivo che è quello appunto della conoscenza di che cosa è il rifiuto, di come si produce ma soprattutto di come non deve essere prodotto. Quindi noi bisogna arrivare a ridurre la produzione dei rifiuti, a fare una raccolta differenziata consapevole, a non abbandonare i rifiuti, tutto questo con un percorso che parte dai ragazzi che elaboreranno questi progetti e potranno essi stessi essere educatori, educatori per gli altri ma anche per gli adulti. Il programma vedrà il coinvolgimento degli studenti di ogni età attraverso attività e iniziative tra cui una serie di contest da svolgersi all'interno degli istituti scolastici con un preciso scopo pedagogico ed educativo. Crediamo in questa iniziativa fermamente perché l'educazione deve partire dalle scuole e quindi insistiamo in questo tipo di iniziative. Crediamo che i ragazzi possano essere degli ottimi ambasciatori sia per una cultura ambientale all'interno della città e sia soprattutto all'interno delle proprie famiglie. Un contesto che parte da subito per terminare per fine maggio se non ricordo male il 7 giugno ci sarà la premiazione con una giuria che è stata già designata. Ci saranno ovviamente dei premi e ogni scuola di ogni ordine e grado dovrà presentare i propri progetti che possono essere da un semplice TikTok o manifesti o qualsiasi cosa che faccia comunicazione. I progetti migliori saranno poi utilizzati nella campagna Andrea Differenzia per dare un tocco nuovo alla comunicazione in questo senso.